Gentili telespettatori, buona giornata. Interviene anche Giorgia Meloni, dopo l'intervento anche di Matteo Salvini, sul rave a Nichelino, praticamente nelle vicinanze di Torino. Un rave party abusivo, party insomma. Quei raduni di balordi, quelli che per ore continuano a fare così con la musica. Giorgia Meloni dice, ma come? Questo governo dei migliori c'è solo contro i lavoratori e i no green pass fanno, i duri, ma con questi qua che fanno le feste abusive, niente, non è capace a intervenire. La leader di Fratelli d'Italia rilancia la petizione di firmare la mozione di sfiducia contro la Lamorgese. Salvini dice, riferisca in Parlamento, se non è in grado di garantire l'ordine pubblico e il rispetto delle regole, lasci il posto ad altri. Però il fatto è che la si potrebbe sfiduciare in Parlamento con una mozione di sfiducia, ma Giorgia Meloni non ha i numeri sufficienti per proporre la mozione di sfiducia in Parlamento. Ci vuole un certo numero di parlamentari e lei non ce l'ha. Ma da Forza Italia e dalla Lega nessun aiuto, nessuno dà a Giorgia Meloni dei voti per poter proporre la questione di sfiducia, la mozione di sfiducia per la Lamorgese. Quindi Salvini vorrebbe che ci fosse un'altra persona al posto della Lamorgese, ma al momento di aiutare Giorgia Meloni a proporre di cacciare la Lamorgese in Parlamento, dice no. Perché io sono al governo e sto aspettando di raccogliere i frutti, Giorgetti me l'ha detto, dobbiamo raccogliere i frutti del governo dei migliori, che ci facciamo? Ci mettiamo a fare le mozioni di sfiducia. Allora ai giornalisti diciamo via la Lamorgese, ma quando c'è da mandare via la Lamorgese, no. Io e Giorgetti stiamo aspettando di raccogliere i frutti. E beh, insomma, un atteggiamento politico un po' indirizzato al consenso, alla propaganda politica. Eh sì. No. Intanto, in migliaia, raggruppati con appelli online, hanno organizzato l'ennesimo maxi rave illegale in Italia, perché negli altri paesi non li possono fare, eh. Negli altri paesi li cacciano, come è giusto, mentre in Italia fanno i maxi rave illegali. Giorgio Meloni dice, ormai questa gente ha capito che con un unistro dell'interno come il nostro tutto è consentito in Italia. Pugno duro con i lavoratori in piazza, carta bianca. A chiunque voglia organizzare un mega party illegale. Questo è il modello Lamorgese, no. Abbiamo visto che c'era un altro modello, no. Il modello Riace per l'accoglienza. Abbiamo anche il modello Lamorgese sui rave party e l'idea di sicurezza pubblica. Così lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, mettendo la foto del rave illegale organizzato tra Nichelino e Borgaretto alle porte di Torino. e rilanciando la petizione per chiedere ai parlamentari di fermare mozione di sfiducia contro il ministro dell'interno. Il ministro venga subito a riferire in Parlamento, se non è in grado di garantire l'ordine pubblico e il rispetto delle regole. Lascia il posto ad altri, dice il leader della Lega Matteo Salvini. Quindi lascia il posto ad altri, venga a riferire in Parlamento. Giorgia Meloni dice, bene, aiutatemi a firmare questa petizione. No. Non vuoi cacciarla. Sono cose che si dicono. Sono cose che si dicono a favore di telecamera, per l'elettorato leghista. Puoi cacciarla veramente? No, noi siamo nel governo. Giorgetti ha detto che stiamo aspettando di raccogliere i frutti. Che facciamo? Ci mettiamo a... Aspettiamo i frutti. Salvini, tu e Giorgetti aspettate i frutti, vedrete alle prossime elezioni politiche che frutti grossi che raccoglierete. Vedrete, sarà un successo. Alle prossime elezioni la Lega avrà il 45% perché Giorgetti e Salvini hanno raccolto i frutti. Beh, sulla stessa linea la senatrice torinese della Lega Marzia Casolati, che dice Il cennesimo rave party con migliaia di partecipanti si consuma sotto il naso della Lamorgese. Il sindaco denuncia persino... Dice quanto accaduto tra Michelino e Beinasco è un'offesa alle tante persone per bene che in questi mesi hanno rispettato le regole. Nonché la dimostrazione che nel nostro paese c'è un problema di sicurezza. Serve prevenzione? Lo abbiamo già detto ormai in troppe occasioni. Se già si sapeva che queste persone andavano a riunirsi lì, perché si erano già messe d'accordo in internet, cioè si erano già messe d'accordo in internet, dice si trovano lì, in quel campo lì, hanno deciso di fare l'accampamento. C'è la carovana di persone che arrivano con le roulotte. Io ho visto una foto di tutte queste roulotte e camper in fila. Intanto li fermi tutti e li fai tornare indietro. Blocchi tutti gli accessi a questa zona dove doveva avvenire il rave. Impedisci con polizia, carabinieri. Impedisci l'ingresso a questo campo e invece niente. Perché il prefetto a capo della pubblica sicurezza non ha fatto nulla? Perché dal Ministero dell'Interno è arrivato l'ordine di non fare nulla? Perché Draghi non vuole Casini che deve andare al Quirinale? Perché il comando dei carabinieri, il comando regionale dei carabinieri non è intervenuto? Non hanno ricevuto l'ordine di intervenire? Ci sono anche le forze armate, eventualmente, che sono nelle caserme. Dice, guarda, fatemi il favore, andate lì dove c'è sto campo, fate una cintura di sicurezza, nessuno si può avvicinare. Tutte queste roulotte che arrivavano, i carabinieri dietro front, avanti march. Ecco, facevano tornare indietro, dice, ma guarda, si stanno organizzando su internet per andare in Toscana. Stessa cosa, in Toscana, sai, perché ormai questa gente si mette d'accordo su internet, puoi sapere tutto, dice, andiamo in Toscana in quel campo lì. E in Toscana la stessa cosa, polizia, carabinieri, arrivano lì. Credete che questi qui possano passare il tempo a consumare benzina per girare l'Italia, per fare un rave? No. Pertanto è anche molto semplice fermare questi rave. Tu sai che si sono organizzati da un mese, perché queste robe qui sono organizzate da tempo. Fai trovare questo campo chiuso, impenetrabile, fermi queste carovane in arrivo. Non mi sembra una cosa così incredibile da fare, quello che fanno normalmente negli altri paesi. Perché in Italia non deve avvenire un qualcosa di così semplice e banale? Io non sono un prefetto, io ho fatto il militare come tanti altri, ma non sono un ufficiale di pubblica sicurezza. È possibile che io abbia delle soluzioni che non hanno gli alti comandi dei carabinieri e il ministero che si occupa della sicurezza? Rimango, diciamo un po', perplesso, se mi permettete il termine.